Allora, prossimo brano. La banda è quella formazione musicale che permette una grande versatilità. Fino ad ora abbiamo ascoltato dei brani di musica per l'infanzia per poi passare al blues, al rock, alle musiche da Fianne alle marce. Ora è il turno di un brano classico. Brandolle, tratto dall'Arlesien di Bizet, non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Diretti dal maestro Giuliano Lasagna, ecco a voi la banda giovanile interprovinciale Ambiva Alessandriassi con Farandone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.